Ho praticamente un principio di assiderazione Credo che sia la giornata più fredda dell'anno Sto approfittando ora di parlare perché sono sola Sono circa le 9 e mezza, le 9 e 40 arriva il mio treno, forse Servizio a noi signori viaggatori che il treno 605 oggi E su presto viaggiano qui il vostro compito Il treno è un'unità Grazie a tutti Grazie a tutti Ormai abbiamo trovato questa posizione Noi resteremo qua tutto bene Sì perché non si arriverà un attimino Tra due minuti vi darò il vino e io te lo dico Grazie a tutti 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 Grazie a tutti